bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo tornati su lego harry potter allora vediamo un po cosa dobbiamo fare dobbiamo andare di qua giusto ok no che capa Pagania! fuori what? ah negli abissi siamo ok siamo uno dei cubi dei vermi ok questo ok cos'è? si taglia 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 ok dai scendiamo ok vediamo nelle profondità della terra e come devo farlo? vediamo 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 questo cosa fa? questo cosa fa? ok mescla eh la madonna ma cos'è sto gol? bello ho paura scheletro ok penso che questo qua serve per rompere vediamo vediamo ah ce l'ho quasi aspetta ok uno due e ci vuole questo tre eccola qua la spada troppo facile mi sa troppo facile mi sa dai ron ce la puoi fare grande ron che che devo fa? ok 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 e lo mettiamo qua vediamo e come l'abbiamo fatto poi mi serve un altro pezzo ah cazzo vediamo non posso ron nemmeno mi serve il mio non c'è che dubal che dubal che dubal allora ta 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 fatto poi dai allora blu verde ros cavolo aspetta non me lo ricordo blu ah blu rosso giallo verde blu rosso giallo verde ok e quindi ma che no era dentro no era dentro dai ron dai ron no 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 bai ron oh ma chi è vediamo sui miei genitori no no di là di là ah che cosa devo fare ah mi sa che li devo sbattere dentro ok dai 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 ron credo in te ron credo in te aia questa è incazzata ahia questa è incazzata ahia questa è incazzata tre oggetti tre oggetti da distruggere ok ragazzi io direi di salutarci qui ci vediamo qua la prossima volta ciao ciao ciao